Siamo qui nel bellissimo stand Follador dal 1769 con Emanuela Follador che ci parla un po' delle novità che hanno portato qui a questa edizione di Vini Italy 2024. Bene, quest'anno come novità abbiamo voluto portare un progetto concreto per la sostenibilità ambientale, vale a dire abbiamo aderito a un progetto di piantumazione di per quest'anno 500 alberi. Il progetto degli alberi continuerà anche l'anno prossimo, ne pianteremo altri 500 e con il 2025 completeremo anche quella che è la certificazione Equalities che riconoscerà un'azienda totalmente green. È un fatto molto importante questo qua, che nobilita l'azienda ancora di più, vero? Assolutamente, è un progetto che noi Follador ci crediamo e da tempo ci stavamo pensando e quest'anno un piccolo passo per realizzarlo. Perfetto, allora non ci resta altro che farvi complimenti e buon lavoro a questo Vini Italy 2024. Grazie, grazie.